Oh, mio Dio! Gau, Richard, fa abbastanza caldo per te? Sì! Oh, e stacco attento con quella pompa! Balla di là! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Piccini Fishing Adventure Avevo voglia di andare a pescare e quindi ho deciso una cava della mia zona Vediamo se le carpe abboccano Se no abboccano, pazienza Se vi piace il video, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete Se no, fate quel cavolo che volete Buona visione! Buon, 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 bu Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti